Buongiorno, io magari me la tolgo, mi tolgo la mascherina perché non so se altrimenti mi sentite. Buongiorno, grazie per essere venuti a questo incontro che abbiamo dedicato al tema dell'orientamento per la generazione 4.0 perché ci sembra che sia un tema particolarmente rilevante oggi in cui il contesto socio-economico è complesso e in continua e veloce trasformazione da una parte. Dall'altra è un momento in cui assistiamo a un aumento notevole del fenomeno dell'abbandono scolastico rispetto al quale è riconosciuto che una delle cause è proprio un mancato o non buon orientamento che genera una scelta mal fatta, mal fondata e che porta poi a lasciare il percorso formativo prima di aver conseguito delle competenze o comunque un punto significativo per costruire poi il proprio futuro. Io sono Monica Pedralli, sono di Pearson Italia. Pearson Italia che voi forse conoscete come casa editrice di scolastica o per i corsi che facciamo per i docenti e proprio in questo nostro lavoro a contatto e in rapporto con le scuole, con i docenti e con i dirigenti ci siamo resi conto della rilevanza del tema dell'orientamento e del problema dell'allineamento delle competenze tra formazione e mondo del lavoro. Per questo abbiamo quindi dato vita a questo progetto che si chiama My Future che è un insieme di proposte e strumenti per l'orientamento e lo sviluppo delle competenze più richieste dal mondo del lavoro o anche solo per proseguire gli studi ed è una proposta che facciamo alle scuole perché possano avere degli strumenti adeguati per aiutare gli studenti nel momento del passaggio e della scelta. Do quindi il benvenuto e ringrazio i due relatori che hanno accettato oggi di parlare con noi di questo. la dottoressa Eleonora Saladino che è psicologa positiva, docente, ricercatrice universitaria, coach, esperta di neuromanagement e il professor Stefano Quaglia che probabilmente tutti conoscete che è stato a lungo dirigente dell'ufficio scolastico regionale proprio con l'incarico di occuparsi delle politiche di orientamento poi direttore dell'ufficio scolastico di Verona. Partirei proprio chiedendo a lei professore di che cosa parliamo quando parliamo di orientamento soprattutto riferito ai ragazzi che sono a scuola nel momento della scelta o del passaggio. Buongiorno, grazie per l'invito e grazie anche per questa bella occasione con voi di Pearson e un saluto anche a quanti eventualmente ci stanno ascoltando in streaming e ci stanno seguendo. Allora la parola orientamento ha diversi significati e se voi andate sui dizionari anche online vedete una sfilza di possibilità. Orientamento viene da mettere in pratica l'individuazione dell'Oriente. L'Oriente è il participio presente riferito a sole, sole oriente, sole occidente perché orior in latino vuol dire nascere, sorgere. Ed era l'est, l'Oriente, il punto cardinale di riferimento per capire la posizione nello spazio. Tenete presente che tutti i templi, comprese poi le chiese cristiane, erano in origine, salvo dopo varianti urbanistiche degli assessori e degli architetti che trovano varianti interessanti nel XXI e nel XXII secolo, tutte orientate con la facciata Oriente. E quindi orientamento significa trovare la direzione, l'assetto. Il primo turbamento sull'orientamento è avvenuto quando si dice che Flavio Gioia ha inventato la bussola e hanno scoperto il magnetismo della terrestre e per cui non più l'Oriente ma il Nord è diventato l'altro punto cardinale di riferimento. E qui sono cominciate già le prime incertezze che sono poi quelle che metaforicamente ci prendono quando dobbiamo decidere l'orientamento nel senso di tracciare i percorsi della strada, che è una questione soprattutto della strada della vita che riguarda i ragazzi. A scuola, normalmente, per scendere più nel tecnico, si è sempre parlato di orientamento in entrata e l'orientamento in uscita. Qual è stato il rischio di questa definizione? Che ha, in qualche maniera, portato sul versante del marketing un problema che in realtà non è di marketing ma è proprio, direi, proprio esistenziale per certi aspetti. Per cui l'orientamento in entrata significava andare nelle scuole prima di noi per dire venite da noi perché noi siamo i migliori. E l'orientamento in uscita significava mettersi in contatto con quelli che noi pensiamo essere gli sbocchi più interessanti per i nostri allievi in futuro. In realtà, quando poi pratichiamo l'orientamento in entrata, l'orientamento in uscita mettiamo in pratica queste quattro cose che vedete che sono frutto di una certa esperienza e di una certa analisi che abbiamo condotto anche negli anni passati con l'Ufficio Scolastico Regionale e con il Comitato Nazionale per l'Orientamento il tavolo nato sotto il Ministro Moratti, poi sotto il Ministro Gelmini che poi in qualche maniera, come molte cose, si è arenato nelle pratiche ministeriali, nella routine. E quattro sono le attività che noi dobbiamo svolgere quando dobbiamo decidere dove andare. Prima dobbiamo sapere dove andare. E questo è quello che chiamiamo orientamento informativo. Possiamo passare alla pagina successiva. L'orientamento informativo fondamentalmente si basa sulla conoscenza dell'offerta formativa territoriale. che scuole ho nel territorio, ma soprattutto qual è, e uso un'espressione di Hillman, qual è il genius loci di ogni scuola e di ogni percorso. Perché se non capiamo questo, non riusciamo a definire il nostro percorso. Perché il problema fondamentale è non solo capire dove andare, ma se prendiamo quella direzione, chi troveremo là? Questo è un problema serio. Molto spesso i docenti della scuola media, ho usato anche questa espressione, per anni non hanno focalizzato bene che oggi abbiamo sedici licei. Sedici. E gli istituti tecnici sono meno dei licei, e i professionali meno, che sono stati poi informati ulteriormente. Perché comunque ormai il messaggio che passa è che il liceo ti dà le scale per salire la vita. Con un errore clamoroso, tipico della mentalità italiana, ma non solo. Cioè che il lavoro è una dannazione, che bisogna fuggire dal lavoro perché è una condanna, e che il lavoro non è di per sé una scelta valida, quando ormai abbiamo capito che per entrare nel mondo del lavoro non si può più entrare senza formazione e senza cultura. Quindi con un capovolgimento totale della contrapposizione tradizionale tra mondo del lavoro e mondo dello studio. In realtà quell'epoca è finita, non esiste più. Una volta si chiamava orientamento scolastico e professionale, oggi si chiama orientamento per la vita, che è un'altra roba. Allora, è chiaro che l'informazione è fondamentale. L'altro passaggio, andiamo avanti, è l'orientamento formativo. Come abbiamo esplorato le vie esterne, dobbiamo esplorare dentro di noi cosa siamo, cosa pensiamo. Qui ci possono essere d'aiuto le persone che hanno questa competenza. Poi la dottoressa Saladino ne parlerà. La psicologia ci è d'aiuto, ci è d'aiuto anche la sociologia. La famiglia ha i suoi desideri. E l'equilibrio fondamentale è sempre tra i desideri e le possibilità, intese come facoltà personali. Non solo le competenze nelle quali si esplicano le doti personali, ma proprio le caratteristiche su cui facciamo affidamento perché possano sviluppare determinate competenze. Le competenze sono la coniugazione tra la dimensione soggettiva e l'esperienza di campo. Quando si dice che una persona è competente vuol dire che sa mettere in pratica come carne e sangue le cose che ha imparato. Io ho insegnato una materia molto semplice al liceo, ho insegnato greco e latino fondamentalmente e con queste materie potevi disintegrare le persone perché bastava nulla. Perché di fronte al greco siamo tutti dei nani, cioè, capite, perfino di fronte all'ebraico forse si può uscirne, ma di fronte al greco mai, perché il greco non è mai come l'hai studiato, è sempre un'altra roba. Allora, da questo punto di vista, la costruzione della soggettività interiore era fondamentale per la progettazione e la capacità di comprendere i testi. Quindi bisognava che lo studio della teoria diventasse parte integrante, nervi e carne e ossa della propria struttura interiore. Ci riusciamo nella scuola? Dopo vedremo gli aspetti scolastici di questo. Poi c'è l'altro orientamento, passiamo. Questo è un orientamento in cui, se i primi due sono gli orientamenti basati sulla parola, questo è un orientamento basato sull'esperienza. L'ho verificato e constatato perché per quasi dieci anni ho coordinato a livello regionale, quindi ho incontrato tutti i presidi di facoltà, delle facoltà scientifiche delle Università del Veneto, ho incontrato tutti i presidi dei licei scientifici e degli istituti tecnici del Veneto per il progetto lauree scientifiche. Il progetto lauree scientifiche è nato perché da un certo momento si sono accorti che nelle facoltà, e non faccio nomi, nei corsi di laurea di matematica e di fisica c'erano cinque matricole. Scusa, ma a cosa serve la matematica? Cioè la matematica è quella roba che serve per risolvere le problemi a scuola. Per cui vi posso assicurare, la battaglia vinta alla fine, che io ho dovuto sostituire, io, grecista, sapete qual è stata la mia fortuna? Che quasi tutti i fisici e i matematici che ho incontrato venivano dal liceo classico. E questo mi ha aiutato molto, perché ci siamo capiti su alcuni passaggi, e l'idea fondamentale era dobbiamo far capire non a cosa serve la matematica, ma qual è il significato della competenza matematica nel mondo d'oggi. Cioè i ragazzi oggi ti chiedono cosa serve, ma in realtà ti chiedono che senso ha. Allora dobbiamo trovare le occasioni in cui gli dimostrate il senso. Sapete qual è stato il risultato? Che il liceo da ponte di Bassano del Grappa ha progettato i modelli utilizzati, non so se ancora adesso, ma per anni, hanno vinto il premio di Confindustria, per la raccolta differenziata dell'immondizia di Bassano del Grappa del suo territorio. Modelli matematici. Modelli matematici per la gestione delle code, modelli matematici per la gestione dei parcheggi, modelli matematici per la previsione dei consumi. Oggi avete visto che questa matematica ci ha dato perfino il quadro del Covid e dei possibili contagi. Perché? Perché se viene utilizzata in maniera intelligente, la matematica è coniugata con le esperienze della vita. Quindi il problema non è la risoluzione del problema di matematica, del grande filosofo matematico che deve esserci e quella è un'altra roba. Ma come formalizzare le esperienze per poter prevedere il futuro? Allora, il progetto lauree scientifiche e i progetti che toccavano la chimica, la matematica, la fisica, ma anche il greco, perché l'abbiamo fatto anche un progetto lettere classiche. Perché non c'era più nessuno che andava a fare lettere classiche. Perché il liceo classico a un certo momento è calato perché è stato il liceo scientifico il liceo nazionale che ha assorbito tutto il resto. Perché? Perché questo facevano esercizio i ragazzi a scuola con persone competenti che gli mostravano cosa significava avere quella competenza. E si misuravano fuori scuola, fuori classe con quelle che erano le problematiche che nella vita potevano incontrare. E quindi lo studio universitario calibrato sulle possibili attività. Ecco cosa vuol dire attività didattiche dimostrative e credibili. E uno dei patti era professori, non mi mandate nelle scuole i vostri ricercatori perché non avete tempo. Se volete che i professori vi ascoltano dovete venire voi. E l'hanno capito. Abbiamo fatto nel Veneto abbiamo aumentato del 160% l'iscrizione alle facoltà scientifiche. Sapete qual era l'obiezione iniziale che mi facevano? Ma questo è canalizzazione? No, dicevo io. Voi la vivete come canalizzazione. Presentate quello che è per voi la matematica, per voi la fisica, per voi la scienza dei materiali. Dite quello che per voi è questa cosa. Beh, non mi crederete era come se avessimo dato a questi docenti una scossa per cui abbiamo fatto delle interviste e dei lavori meravigliosi in cui hanno loro stessi riscoperto la bellezza della novità della loro disciplina. Ed è stato una chiave di successo perché l'orientamento è sempre la scelta del percorso nel quale tu non applichi quello che hai imparato ma a quello che hai imparato aggiungi qualcosa di tuo. E andiamo all'ultimo caso che è quello più drammatico che è quello con il quale la dottoressa Saladino e tutti i colleghi devono misurarsi costantemente compresa la mia professoressa Spallone che segue spesso i passaggi di classe o di indirizzo da una parte all'altra perché alla fine il ragazzo in terza non vuole più fare quella scuola lì in quarta non vuole più fare quella scuola lì si accorge di aver sbagliato e finché siamo al liceo ma è quando succede all'università la cosa perché se succede a 16 anni è un conto ma se succede a 23-24 sono tragedie allora il riorientamento che parte dall'idea che si può sempre significativamente ricominciare e rileggere il percorso e lì occorrono due azioni una è quella dell'esperto e l'altra è quella della famiglia se non c'è la famiglia non c'è niente da fare non se ne va fuori e allora lì succedono le situazioni di sbandamento che sono gravissime oggi sapete perché sarà capitato anche voi e con questo chiudo la mia prima parte spero di essere nei tempi di essere andati in banca di incontrare il ragioniere che vi fa perché adesso sapete non si va più allo sportello ci si siede davanti a un tavolo cioè tutta un'altra roba il marketing della relazione economico finanziaria hai cambiato è sempre molto confidenziale sempre molto particolare si comincia a parlare anche io avrei voluto laurearmi ma non ce l'ho fatta alla fine però per fortuna la banca mi ha preso scopro che intorno alla sala dove sono nessuno ha fatto ragioneria sono tutti residui bellici di licei tutti quanti questa cosa non succederà più è successa negli anni 70 80 ma non succede più perché oggi le banche vogliono già persone pronte su una determinata tematica quindi ci siamo inventati anche il liceo economico ovviamente perché bisogna fare il liceo ma bisogna avere le competenze specifiche ed è questo l'errore clamoroso che è stato fatto in quest'ultima riforma io sono un talebano del progetto Brocca degli anni 90 dove la licealità era concepita come licealità diffusa non questa scemenza che hanno inventato che chiamano competenze giusto per spiegarsi che sono tassonomie che sono prive di senso perché il principio era che si può fare un liceo anche e questo l'hanno dimostrato gli amici piemontesi in cucina perché c'è la differenza tra e dopo la vedremo spiegare come si fa e spiegare perché si fa quindi si può licealizzare tutto il problema è non perdere tempo nelle chiacchiere ma calibrare il pensiero sui fatti che è una lezione per la gente del liceo che non avete idea i filosofi ci sono arrivati perché abbiamo la filosofia del vino la filosofia del viaggio la filosofia del commercio la filosofia del marketing cioè hanno capito che il problema nodale non è il fare ma il comprendere il senso del fare allora io a tavola e chiudo con i miei compagni di università ho fatto il collegio Don Mazza Padova eravamo in 300 maschi immaginate che roba una roba terrificante di questi 300 250 facevano ingegneria roba insopportabile gli altri 45 facevano medicina tre facevano agraria uno faceva giurisprudenza e uno faceva lettere quando a tavola da me naturalmente si parlava perché quando si sedevano a tavola diceva ma a cosa serve il latino sono cresciuto con questa inquietante domanda e io dicevo e pensa te cosa serva il greco allora ho trovato una risposta slogan il latino non serve a nulla perché non è servo di nessuno bella risposta in realtà l'ho capito più tardi che non si dà una risposta a cosa serve è quello che avevo detto prima ma si domanda che senso ha e qui entriamo in campo noi siamo noi che diamo senso a quello che insegniamo ma adesso ripasso la palla con un cross verso l'area alla dottoressa Saladino mi pare ci fossero ancora le quattro tipi di scelta perché dopo se volete ne parliamo ok ok grazie Stefano è sempre emozionante parlare con Stefano perché mi apre dei mondi già le prime parole che ha detto sono sole direzione vita io da psicologa positiva ho molto a che fare con persone che capiscono di aver sbagliato quello che fanno quando sono un po' grandi solo che l'essere grandi oggi come diceva Stefano è sceso molto come età ci sono ragazzi che a 23 24 anni escono dall'università dal ciclo completo quindi anche con una laurea magistrale specialistica magari ci hanno fatto anche un bel master perché giustamente adesso non puoi andare a lavorare senza avere un master nel curriculum e poi capiscono che quando arrivano a fare quel lavoro che avevano sognato immaginato non sono contenti non sono soddisfatti e quello che mi trovo a dire spesso che noi stiamo guardando ad un futuro che è già qui che si costruisce giorno dopo giorno e che parte fondamentalmente è davvero da tre aspetti fondamentali che sono il desiderio la disciplina e la determinazione il desiderio che cosa significa significa davvero trovare cos'è che vi può piacere per tutta la vita che non è legato a un'attività nella laurea magistrale a Londra di psicologia positiva perché in Italia ancora non esiste per cui potremmo anche proporne l'istituzione c'è proprio stata una ricerca che ha visto come non siamo destinati ad appassionarci a un'attività per quello che quell'attività è e per quello che quell'attività fa ma per le gratificazioni che provengono dal fare quel tipo di attività e dalle persone con cui entro in contatto per cui le dimensioni le potete vedere sono quando sono felice di quello che faccio quando serve a me e serve al mondo quando mi coinvolge mente e cuore quindi è proprio il vedere la persona nel suo complesso quindi nella sua multifacettatura di quello che sono ciò che si aspetta dal futuro e come facciamo a farlo oggi di sicuro non c'è l'indicazione di un'attività che va bene per tutti e allora come facciamo ad indicare la strada o come facciamo a reindicarla a tutte quelle persone che si rendono conto di aver preso la strada sbagliata o che è la strada che per il momento non va bene per loro per quello che li desidera indicargli una strada io utilizzo il modello dell'Ikigai che è un modello molto semplice se andiamo alla slide dopo riunisce quello che ci piace fare con quello in cui io sono posso essere bravo per il quale posso essere remunerato e che è utile al mondo e uno dice beh è facile basta prendere queste quattro cose fare quattro list vedere che cosa incrocia tutto quanto e qui nasce la complessità nasce la complessità di quei due mondi che ha detto anche Stefano che si incontrano tra l'esperto e la famiglia tra la scuola e la famiglia a me piace dire spesso che la scuola potrà essere la seconda famiglia quando la famiglia inizierà a essere la prima scuola in un dialogo continuo non dove si va in qualche modo ad aspettarsi che sia la scuola di indicare la strada per il futuro dei propri figli è un lavoro di concerto tra gli studenti quindi tra le persone che si conoscono più o meno bene quindi conoscono le loro aspettative tra quello che è l'offerta del mondo perché oggi ci rendiamo conto che nel momento in cui devo scegliere tra 16 licei ecco che arriva la psicologia economica che dice attenzione sopra le 3-4 scelte il nostro cervello si blocca c'è il paradosso della scelta troppa scelta crea immobilismo e quindi non si sa più che cosa scegliere e poi ci tornerà sicuramente Stefano con quali sono i criteri con cui si sceglie oggi ecco il focus che voglio dare oggi è frutto di un'illuminazione che a me è arrivata iniziando a collaborare con Pearson quando ho conosciuto il test Motiva perché aiuta davvero a avere un'idea un po' più precisa di quelle che sono le nostre potenzialità le nostre aspettative che cosa ci piace fare mentre molti partono dal presupposto di dire in cosa sono bravo quanti di voi hanno scelto la scuola partendo da quella che era la loro pagella la cosa in cui erano più bravi ecco la psicologia positiva ha ribaltato tanti anni fa il paradigma cioè basta lavorare sui punti deboli o sulle aree di miglioramento poniamo il punto di lavorare su quello in cui siamo bravi per farli diventare delle eccellenze avete mai provato che cosa significa fare qualcosa che vi piace tantissimo si parla di esperienze di flow vi è mai capitato di fare un'attività e di perdere il senso del tempo di accorgervi che erano passate ore e voi eravate impegnati a fare qualcosa che poteva essere la lettura un lavoro manuale no parliamo di lavori manuali ancora eppure è proprio lì che possiamo andare a trovare quella che dice anche Ilman la nostra ghianda cosa ci rende contenti io vi parlo alla tenera età sono diversamente giovane perché ho 50 anni ormai dove sto vivendo la mia quarta vita io ho iniziato da ragioniere programmatore in un istituto tecnico diviso tra geometri e ragionieri quindi io ero la lecca busto e poi c'erano gli operatori agricoli facevo informatico e ho iniziato a lavorare in banca penso che oggi Stefano abbia detto tutti i posti da cui possibili scappare ecco io li ho vissuti dal 92 fino al 2015 nel settore finanziario dove ho iniziato anche a fare la formazione mi sono trasformata da ragioniere poi economista poi ci hanno lasciato a casa dall'oggi al domani perché in Romania si guadagnava di più e quindi mi sono iscritta a psicologia quindi ho iniziato un po' a collezionare lauree e a provare strade e se c'è una cosa che ho provato sulla mia pelle è che possiamo cambiare strada in ogni momento mai come in questo momento cinque anni fa quando sentivate parlare di social media manager social media strategist social media adesso conosciamo tutti quelli dell'Inps perché con reddito di cittadinanza lo conosciamo molto bene che cosa significa ma solo cinque anni fa queste professioni erano a pannaggio soltanto delle multinazionali oggi li hanno più o meno quasi tutti o tutti sanno che cosa significa una professione che cinque anni fa non esisteva se dobbiamo guardare tra qui e cinque anni nel futuro dobbiamo iniziare a guardare da oggi partendo da che cosa da un punto fisso noi stessi che cosa ci piace fare quando è che sorridiamo pensando di doverci alzare la mattina tutti hanno provato l'esperienza del lunedì mattina l'energia per alzarvi il lunedì mattina è la stessa che avete bisogno per alzarvi il sabato vedo tutti no da casa immagino che sia un po' più o meno la stessa cosa ecco quello che è importante è capire che cosa ti piace fare in cosa puoi essere bravo partendo proprio dalle potenzialità che tutti abbiamo al nostro interno ci sono tanti strumenti Motiva è uno c'è il via character se vi piace approfondirlo che è proprio del papà della psicologia positiva di Martin Seligman che vi dice noi abbiamo all'interno tutte le potenzialità abbiamo il coraggio abbiamo la curiosità abbiamo l'amore per l'apprendimento ecco per me io sono portatrice sana da sindrome di apprendimento continuo un po' a livello ossessivo compulsivo però si può guarire il punto è che viviamo in un'epoca nella quale conoscendo l'inglese eh lo so lo so è dura però se conoscete l'inglese oggi il problema non è l'accesso alla formazione o l'accesso all'informazione è la selezione di quello che vi piace e quello che funziona è proprio partire da ciò che vi piace come poterlo trasformare in qualcosa di redditizio innanzitutto diventando bravi partendo dal presupposto che il nostro cervello è plastico possiamo imparare quanti di noi sono cresciuti sentendosi dire non sei portato a me è stato detto sul canto all'oratorio nel coro mi dicevano tu muovi la bocca fai numero per cui è ovvio che io oggi mi considero stonata oggettivamente posso dire che non sono educata al canto ma il punto è che se iniziamo ad allenarci ad addestrarci a coltivare alcune qualità magari non diventiamo pavarotti magari non diventiamo bocelli ma possiamo anche diventare molto più bravi tanto da farne una professione l'ultimo essere remunerati è l'abc perché se no diventa veramente una vocazione è la cosa importante che oggi si vede sempre di più a livello psicologico ed è un po' la base del nostro sogno dell'essere qui è che sia utile al mondo perché deve essere utile anche agli altri siamo animali sociali va bene studiare ma il punto è e questo io l'ho capito che l'amore per lo studio si concretizzava e mi rendeva davvero felice quando poi lo condividevo con gli altri e da qui farne proprio la propria vocazione per la vita che poi nell'arco della vita può anche cambiare quindi che cosa ci serve che cosa vi serve per poter indicare la via e poterla scegliere sapendo che non è responsabilità solo degli studenti quindi dei giovani eh ma devono sapere dove vogliono andare eh trovare la direzione non è sempre facile anche perché il mondo cambia quindi che cosa ci può servire ci può servire allenare e coltivare e nutrire con amore e dedizione tutte quelle soft skills che oggi vengono chiamate così in realtà sono abilità trasversali il saper comunicare con le persone saper pensare non saper cosa ricordare io dico sempre in aula che a sei anni entriamo nel ciclo ADR a domanda rispondi e mi piacerebbe tanto trasformarlo in a domanda rifletti cioè a cosa che senso ha a cosa mi servirà che cosa ne farò fra cinque anni perché è uno sforzo è un impegno che viene chiesto a tutti oggi di prevedere il futuro e di iniziare a costruirlo oggi di strumenti ce ne sono tanti quindi poi magari li approfondiamo nelle slide vi faccio vedere solo alcune ricerche perché adesso il termine ikigai se ne sente parlare sempre di più viene tradotto anche con l'inglese il purpose o proposito di vita alla fine importa poco quello che fai importa che cosa ne proviene per te da quello che fai e quindi oggi siamo un po' qui per proprio parlarne e dialogarne e capire in che modo e quali strumenti abbiamo proprio per apprendere come scegliere e riorientarci ogni volta che il sole cambia mi ha detto Stefano all'inizio se prima erano tutti a est e poi sono andati a nord se c'è una cosa bella che l'essere umano a livello psicologico sa fare è sicuramente l'adattamento quindi nutriamolo tutti i giorni grazie Eleonora professore la scuola facciamo un passo indietro le scelte torniamo alla slide grazie ecco quelle che vedete ne ha parlato adesso Eleonora e quindi le tocchiamo anche sono dice sempre quattro va bene c'è chi usa la strategia del tre e chi usa la strategia del quattro io su questa serie di slide sono tarato sul quattro perché c'è un valore antinomico o positivo come potete immaginare c'è una differenza due a due e quindi c'è una dialettica tra queste quattro possibilità che sono quelle che ho riscontrato sono le prevalenti quando i ragazzi devono fare una scelta nella decisione tra la scuola media cioè la secondaria di primo grado e il secondo grado e anche all'università la prima è la scelta per imitazione io non ci credevo quando il mio professore di filosofia mi diceva ragazzini ragazzini avrete scelto medicina perché la vostra fidanzata vuole fare medicina forse e pensavo che scherzasse in realtà poi me ne sono reso conto che le scelte fatte sulla base del compagno di banco o dell'amico di famiglia sono spaventosamente frequenti e lo abbiamo visto in una generazione come la mia che adesso sta creando problemi perché stanno andando in pensione tutti i medici che negli anni 70 sono stati fondamentali per creare il sistema sanitario italiano diffuso oggi abbiamo un problema che gli inglesi avevano già dieci anni fa non abbiamo più medici a sufficienza e non abbiamo neanche più infermieri a sufficienza ma il problema è che lì è stato fatto un errore clamoroso anche di presentazione delle professioni molti miei compagni hanno scelto medicina perché in quel periodo andava medicina poi c'è stato il periodo di giurisprudenza poi c'è stato il periodo di economia e commercio adesso c'è il periodo delle lauree che hanno un nome speciale economia dei beni culturali e via di seguito perché le università hanno capito sempre nella logica del marketing quindi la scelta per imitazione è la più diffusa ma è la più sbagliata di tutti è quella che porta inevitabilmente a sbagliare a fallire se non ci sono gli elementi interiori di proprio capacità di fronteggiare le richieste dei percorsi che si scelgono proprio perché non si è ragionato ma ci si è misurati sul copiare quello che fanno gli altri purtroppo gli esseri umani hanno questa natura sociale che è dialettica vi ricordate quella pubblicità in cui si diceva tutti uguali ma diversi tutti avevano l'eschimo ma ognuno aveva una cosa un po' particolare quando eravamo giovani noi poi sono arrivati altri tipi di vestito altri tipi di moda i ragazzi sono condizionati perché? perché lo spirito gregario ti porta a riconoscerti in un modello immaginario collettivo condiviso ma questo può andare bene per il vestito ma non può andare bene per la scelta del percorso scolastico o universitario l'altra è la scelta per esclusione che non è una scelta di per sé negativa il primo principio è evitare il pericolo il principio è salvarsi dai pericoli quindi non è di per sé sbagliato fare una scelta quante volte ci siamo detti hai fatto questo perché non hai voluto fare nient'altro piano se non si sa cosa fare si comincia a ragionare su ciò che bisogna evitare ma lo si faccia consapevolmente la scelta per esclusione purtroppo viene ancora praticata non per consapevolezza e il caso ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti il liceo scientifico rappresenta o meglio i licei rappresentano il 64% della scelta scolastica italiana oggi di quel 64% il 50% è del liceo scientifico sta superando il 50% il cosiddetto scientifico delle scienze applicate che una volta si chiamava scientifico tecnologico quello dove non c'è il latino allora molto spesso le famiglie per la paura di incrociare il latinorum e di dover pagare lezioni di latino fanno la scelta dello scientifico delle scienze applicate non rendendosi conto del baratro a cui vanno incontro perché c'è tanta di quella matematica da far sentire la nostalgia del latino cioè questo è il problema allora cosa fanno i professori per non perdere i ragazzi fingono inutile che ci giriamo intorno colleghi lo sappiamo che si finge come si finge sul greco si finge passando il messaggio clamoroso e vergognoso che possiamo rilasciare un titolo anche se le competenze non ci sono infatti noi non certifichiamo le competenze certifichiamo la frequenza non c'è ancora la certificazione il certificato aggiuntivo che si fa al diploma non è un certificato di competenze sapete è un certificato di frequenza di una scuola che dà quelle competenze bisogna ricordarselo questo perché certificare le competenze significa fare la verifica e vedere che quella matematica c'è lo sapete alle scienze applicate arrivano a fare mi hanno detto il programma di analisi 1 io lo so cosa succede perché l'ho visto nascere e sono stato il coordinatore nazionale quando ero giovane della tecnologia e disegno quindi ho partecipato a tutti i seminari gli organizzati nazionali per l'insegnamento di tecnologia e disegno in quello che era lo scientifico tecnologico quindi avevo continuamente a che fare con i professori che erano e io poi ho diretto uno dei primi sei in Italia e ho visto la sofferenza di tutti i ragazzi che per evitare una cosa che temevano si sono cacciati nella bocca del lupo e questo è un altro aspetto si esclude ciò di cui non si ha paura ma di cui si è certi che potrebbe farci male che è un'altra cosa l'altra è la scelta per calcolo quante volte in famiglia abbiamo meccanici ragionieri geometri hanno fatto fare ai figli il percorso dice perché abbiamo un'attività di per sé non è privo di senso anche questa scelta però il problema è se tu sei un ragazzo ieri sera ho visto un film proprio dove lo dico un assassino seriale la giustificazione alla fine che è venuta fuori era il padre ha sempre voluto che facesse il marinaio e l'imprenditore l'armatore come lui mentre lui amava la poesia e le lettere cioè siamo in un film per cui vabbè però dove sta il problema che se ti strappano il cuore perché devi fare qualcosa che va bene per il gruppo devi essere capace di vivere in circolazione extracorporea può essere c'è gente che ce l'ha fatta ma devi sapere che si soffre o se ti trapiantano il cuore perché te ne mettono uno commerciale mentre tu sei invece un cuore di fantasia e beh le cose cambiano si può fare però questo comporta sofferenza poi sapete l'ho detto a Eleonora quando ci siamo confrontati e a Monica la vocazione vera è come le radici degli alberi siete andati voi in giro per i marciapiedi delle città alberate e vedete i marciapiedi scardinati dalle radici degli alberi alla fine viene fuori un mio amico che ha dovuto fare il geometra appena ha potuto si è imbarcato sulle navi a suonare la tromba e lui voleva fare il musicista e non c'è stato niente da fare il fratello minore ha beneficiato di questa sua vocazione ed è diventato professore di musica il suo sacrificio ha dato la libertà al fratello perché si sono rassegnati in famiglia avevano una impresa commerciale formidabile nell'elettronica ma due sono andati a fare i musicisti e non c'è stato niente da fare quindi la scelta per calcolo va bene se si è in grado di affrontare le difficoltà esistenziali del percorso che si deve scegliere questo va bene per i ragazzi delle superiori ma è ancora più terribile per l'università perché là ci si gioca la vita per sempre quindi bisogna essere capaci di quella flessibilità per cui facendo l'ingegnere meccanico forse però puoi coltivare anche la letteratura come aveva fatto Gadda che era un ingegnere chimico quindi bisogna gestirsi il tempo e trovare gli spazi perché emerga quello che può andare bene poi per gli altri perché se fai male le cose tue fai male agli altri questo è il principio infine la scelta per elezione cioè quella elettiva quella che uno dice sa dove andare e lo fa in passato lo si faceva perché in famiglia tutti avevano fatto il classico non si discute qui non si mette discussione e uno diceva lo faccio perché nonno ha fatto noi siamo avverranno si dice del maffè io non ho fatto il maffè ho fatto il cotta di legnago perché io ero della bassa veronese quindi ho fatto un altro liceo ma voglio dire c'è l'orgoglio però attenti questa è la più rara di tutte sarebbe quella che bisognerebbe fare cosa possiamo fare per arrivare lì cominciare a giocare con questo schemino che è uno schemino molto semplice che però comincia a fare come il setaccio comincia a fare le distinzioni perché poi alla fine andiamo all'ultima mia diapositiva eccola qua la scuola quanto conta perché poi una volta scelta la scuola bisogna capire cosa conta e lì anche qui stavolta lo schema è binario e l'opposizione dialettica è tra insegnamento e apprendimento cos'è il valore orientativo della disciplina posso spiegare ai miei professori di matematica perché loro non insegnano matematica ma attraverso la matematica sviluppano i principi di precisione di astrazione e di modellizzazione concettuale no io devo spiegare la matematica piano quando tu fai greco non fai greco ma abitui a un codice lontano nel tempo e nello spazio con una configurazione semantica che è il tappeto su cui è sorta la nostra configurazione semantica ma che è lontanissimo per cui tu non puoi confondere il greco con l'italiano ma se sai il greco capisci dell'italiano la tridimensionalità che altri non hanno allora il greco non è fatto per selezionare e tagliare a fette i ragazzi ma è fatto per dargli gli strumenti per capire di più cos'è la storia se non la disciplina che crea gli assi temporali e la geografia gli assi spaziali e la filosofia quella che li mette in crisi cioè alla fine ognuna delle nostre disciplini con i suoi contenuti diventa un elemento di modellizzazione della struttura neuronale dei nostri allievi perché perché l'esperienza cognitiva che modella le sinassi che hanno l'abitudine a determinati incontri concettuali e alla costruzione di panorami concettuali all'interno di quali l'individuo si colloca per vedere e guardarsi dentro e orizzontarsi nella sua situazione vedere il suo orizzonte e orientarsi per le scelte che deve fare e allo stesso tempo nel vissuto degli studenti qual è la disciplina nella quale il mio interiore si manifesta meglio quella della parola o quella dell'esperienza quella del rapporto con gli altri o quella della solitudine perché i modelli profondi dice questo ha fatto il liceo musicale perché è sempre là con le cuffiette che ascolta musica questo ha fatto il liceo classico perché è sempre là che legge mi diceva il mio collega diventato professore di lettere io leggevo anche i fumetti i miei vedevano che leggevo ma non mi hanno andato al liceo è stata una fortuna perché è andata dritta ma il problema è un altro qual è la disciplina nella quale quando tu la studi in realtà improvvisamente non studi più quello che c'è lì ma cominci a volare perché il tuo cervello ti porta a pensare con quella logica per cui tu cominci a sentirti coerente con quello che c'è scritto lì davanti io per esempio non sono un letterato anche se ho fatto lettere ho lavorato sempre nel campo mi muovo ma io sono un linguista sono un grammatico perché e qui uso un'immagine quando guardo una donna sì chiaramente che bella ragazza io guardo se le casca bene il vestito se la borsetta è abbinata al taier se ha un taier o se ha un vestito unico se i colori del trucco sono coerenti con il suo modo di essere cioè io non guardo il contenuto guardo la forma quando leggo un libro dopo dieci righe se non è scritto nella lingua che va bene lo pianto lì perché non riesco ad andare avanti cioè non è la trama che mi interessa mi interessa la lingua sto leggendo un saggio di Giorgio Agamben sul fantasma che è una cosa terribilmente affascinante in cui non capisci niente ma è una lingua che ti inchioda capite? e allora io ritorno dieci volte a leggere infatti sapete quando ho scoperto questo? quando all'università fanno un seminario su Proust in cui il professore ci ha spiegato che la difficoltà sintattica di Proust è la chiave per la comprensione profonda del testo e questo mi è emerso con chiarezza anche tipicamente in Platone e in Aristotele dove tu non capisci nulla se non riesci a ricostruire la lingua perché è la lingua la forza che comunica allora detto questo questo può succedere con la matematica può succedere con l'elettronica può succedere con la fisica sto leggendo un libro che è quando abbiamo finito di comprendere il mondo va bene dove vengono fatte figure di matematici che sul letto di morte hanno calcolato la pressione delle vesciche di cui erano ricoperti al fronte sulla prima guerra mondiale cioè una cosa Schwarzwild va bene che è quello che ha scoperto la validità delle equazioni di Einstein della teoria della relatività allora la passione e chiudo l'orientamento è un'operazione complessa perché richiede una serie di elementi da mettere insieme ma va vissuto e quindi occorre l'esperto e la famiglia e la scuola e lì c'è il ragazzo che deve dire la sua mai lasciargli dire dire quello che sento dire ai genitori ma è stato lui no è stato lui dopo che insieme abbiamo visto tutto quindi ai colleghi in sala e ai ragazzi che saranno un domani professionisti mai dire l'ha scelto lui questo è uno scarico di responsabilità siamo noi che guidiamo i ragazzi colleghi aiutare i ragazzi a scoprire se stessi famiglie rassegnarsi se il figlio è diverso da come l'hai pensato capite che quindi orientare significa crescere in cultura e in rispetto della persona ed è quello che vorrei che vedeste in questa frase perché noi abbiamo una massa di studenti in mane che è vero che sono calate le nascite ma l'universo dei giovani che vanno a scuola e l'universo dei nati è ormai coincidente quindi abbiamo tutti i problemi dei nati compresi i clandestini che devono andare a scuola quindi un ubifragio prego che si sta abbattendo sulla società va bene e che deve essere guidato e canalizzato non può abbattersi come un ciclone sulla scuola poi uscire e non contare più nulla come sta succedendo oggi cioè non è possibile che i ragazzi che sono così tanti che vengono a invadere che hanno i problemi che a scuola tutti stiamo agitati poi come escono fuori dove sono evaporati andate in sala verdi dove hanno inaugurato il job quanti giovani c'erano e tutti parlavano di giovani e non ce n'era uno in sala capite allora bisogna finirla di parlare di giovani e solidificarli fare in modo di vederli guardandoli vederli come si diceva e accoglierli cioè fare veramente una scelta che tenga conto veramente di quello che desiderano loro trovare gli spazi in cui si manifestino qual è stata la mia fortuna ho cominciato a insegnare a 22 anni appena laureato non ho fatto un contratto provvisorio mi hanno fatto un contratto immediato però non era un contratto pieno era nove ore di greco e di latino voi non avete idea per i tre anni iniziali della mia vita professionale cosa ho imparato insegnando solo tre giorni alla settimana in una classe quindi quello che conta non è il contratto di formazione tutte le menate che ci sono in vantaggio è dare ai ragazzi una entrata nel mondo del lavoro che rispetti i tempi di passaggio dalla giovinezza al lavoro in modo che il lavoro divenga parte integrante della loro progettualità questo significa entrare in una pedagogia territoriale che non c'è che va inventata e che dobbiamo fare insieme chiudo dobbiamo potenziare e valorizzare i ragazzi se non ce la faremo perdiamo è come se noi andassimo con le tanniche di benzina a metterle nelle piante pensando di dare loro un nutrimento questo io credo sia il messaggio che possiamo lanciare Eleonora a te la parola per una chiusura non accendiamo la benzina per il momento cerchiamo di sostituire veramente l'acqua il punto di partenza sono proprio le persone i ragazzi che non sono solo i giovani sono anche i genitori una cosa Stefano che hai detto che mi ha colpito molto è accettare che l'idea del figlio che avevi o della figlia che avevi non è quella che fa bene a tuo figlio questo credo che possa essere veramente un invito grandissimo a tutti se ci sono domande ci sono i ragazzi anche della mia scuola qua vorrei che loro lo vivessero questo in un'ottica di sviluppo futuro perché ormai sono in quinta loro adesso hanno anche la scelta dell'università ma con la vostra professionalità in futuro aiutateci a realizzare questo che abbiamo visto fatto sulla vostra pelle che abbia un senso poi se non ha senso rifletteteci fatelo vostro trasformatelo non prendete per oro colato quello che diciamo prendetelo come una proposta da esaminare e da fare voi perché altrimenti continueremo a sempre a ripetere quello che hanno detto gli altri quindi siate autonomi autonomi in un confronto intelligente in un passaggio dialettico con le generazioni che non dice io vado per conto mio no insieme ma con la vostra autonomia ecco questo è il suggerimento che io do ai miei allievi grazie grazie davvero ci sono domande qualcuno forse abbiamo ancora qualche minuto due o tre minuti se qualcuno vuole fare una domanda ce l'abbiamo se queste provocazioni sono perché di provocazioni di fatto sì mi avete scioccati io penso che comunque il ruolo è vero è un insieme è un gioco di squadra in cui gli adulti hanno un ruolo di guida perché diciamo sono quelli che vedono un po' la meta o comunque la intuiscono dove però il protagonista sono i ragazzi quindi il punto è dare loro gli strumenti più adeguati quindi questo è proprio un po' come dire un appello per i docenti che hanno in carico in fondo la costruzione degli strumenti le famiglie le famiglie ovviamente però poi le famiglie un po' si aspettano legittimamente o meno però che la scuola si faccia carico del futuro professionale e di sviluppo personale dei ragazzi quindi diciamo la palla è centrale che sia ben gestita dai docenti dalle scuole da chi ha il potere decisionale di dare ai ragazzi gli strumenti più i percorsi formativi più adeguati ecco bene grazie grazie di essere stati qui della vostra pazienza del vostro interesse e buon proseguimento allora negli altri eventi della fiera grazie grazie a voi grazie 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 a tutti